amici di milan punto soccer eccoci buongiorno buongiorno rosso nero come state allora ci siamo ci siamo quasi sta per ricominciare il campionato oggi c'è qualche match che andiamo un po a sbirciare poi toccherà a noi nel lunch match di domani allora vediamo però prima di cominciare di fare piccole raccomandazioni non è un plurale mai stati se siamo io e alienino raccomandazioni semplici l'iscrizione al canale se vi fa piacere gratuito così come il pollicione il mi piace altrettanto gratuito è per noi un gesto importante e fondamentale poi guardate un po più in basso link in descrizione romanzo milan il romanzo per veri milanisti amazon ve lo porta a casa ci siamo cominciamo mamma mia è tornato e si vede forse bisogna che riequilibriamo un po tutti quanti compreso il sottoscritto perché le critiche bisogna accettarle quando sono giuste anche farsele io non lo so quello che succederà magari mi pentirò anche di questo video non importa però l'importante è stare con voi a proposito fatemi fare un saluto agli amici del milan club new york che mi hanno scritto grazie casa e casa tua grazie grazie vi voglio bene vengo sempre volentieri ci vediamo un paio di partite insieme in questi giorni milan atalanta roma milan eccetera però adesso torniamo a noi perché vi sto dicendo mamma mia è tornato e si vede beh perché è vero è tornato slatan ibraimovic tanto criticato oggettivamente anche dal sottoscritto è così un po una forma di liberazione a volte una forma di tutela perché quando si vuole bene al milan beh c'è tanto 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 da dire tanto tanto da emozionarsi è tornato e ha parlato con la dirigenza ma c'è una cosa che è venuta fuori perché a guardare i ragazzi che si allenavano a milanello c'erano ibraimovic e moncada allora seguitemi nel ragionamento innanzitutto per quanto riguarda la punta la punta ci dice che è molto vicino al milan che sulla questione c'è una spaccatura tra furlani e moncada moncada vuole girassi mentre furlani dice no ma attenzione non è un no basato su un convincimento tecnico moncada rimane un tecnico fondamentalmente uno di quelli che va in giro per gli stadi e dice questo sarà forte questo sarà forte e quindi lui fa una valutazione poi c'è l'aspetto ragioneristico e abbiamo questo ragionier filini in mezzo a noi che appunto il ragionier furlani che dice costa troppo sì c'è la clausola non so 16 17 milioni adesso poco importa e allora bisogna guardare altri profili e quindi bisogna cosa contentarsi vedremo come andrà con il profilo di cui abbiamo detto ieri e che metto alla fine di questo video per la questione con la stone villa no e zlatan invece arriva e dice e no non funziona così tra l'altro l'aveva già detto paolo ma va bene così non funziona così e infatti c'è un asse tra ibraimovic e moncada e c'è stato diciamo così un litigio possiamo dirlo una diversità di vedute vogliamo usare un termine un po più edulcorato un termine un po più in politichese ma chi conosce questo canale lo sa che hanno il politichese non ci piace e allora diciamo che da una parte ci sono ibraimovic e moncada che sono un po quelli che pensano alla forza del campo alla parte tecnica e dall'altra c'è furlani che come ripeto è un po quello che chiude la borsa con i denari perché è stato messo lì da il buon gerry cardinale dice non bisogna spendere e allora ritorniamo alla questione conte ibra vuole conte moncada vuole conte ma secondo me moncada alla fine ha capito che tra lui e furlani non ci sarà mai questa connessione perché con furlani queste connessioni non vanno tanto avanti guarda la fine di maldini ma allora ha trovato una spalla l'avete visto anche nella foto lui un po più bassino lui così imponente e allora ibraimovic e moncada ci dicono conte a tutti i costi anche se conte ha detto no al napoli dopo due incontri vuole tornare a milano abita torino ma pronti via il progetto milan lo convince molto di più quindi ci sono tutte le condizioni 6 7 8 milioni lui è disponibile fino a 4 4 e mezzo per cui alla fine voglio dire non ricominciamo con quei 500 mila euro in più in meno che poi andiamo a buttare dei soldi per giocatori che abbiamo visto e non voglio ancora citarli lo farò alla fine del campionato ma alcuni che sono costati 28 milioni proprio non hanno alcun valore secondo me e allora furlani dice no bisogna trovare qualcuno che costa meno allora signor furlani dottor furlani egregio illustrissimo amministratore delegato io non credo che lei sia mi consenta come diceva qualcuno più importante di me mi consenta nel dirle che a mio avviso lei non ha il come dire lo standing per poter avere quel ruolo se lei è lì per fare il ragioniere del signor gerry cardinale lo posso anche comprendere da uomo adulto perché c'è un investimento bisogna stare attenti però se proprio dovevate comportarvi così anziché comprarvi una squadra di calcio non lo so andate ad acquistare un cinema andate ad acquistare una nave da crociera andate ad acquistare un'altra cosa forse a voi sfugge un aspetto fondamentale che qui e lo ribadisco per la seconda volta anche se ho ricevuto un commento che dice no il milan non è vostro il milan è nostro è una religione laica è una questione di cuore per cui quando si fa come dire un lavoro come questo tra l'altro la prossima volta al limite andate ad acquistare una squadra più modesta di meno ambizioni che non ha come dire competizioni o competitor all'interno della stessa città non potete comprare il milan e comportarvi come se aveste acquistato non so la pippo la pipponese d'accordo così non offendiamo nessuno avete acquistato il milan e ora ne prendete i pregi e i difetti e tra i difetti ci sono che il milan deve vincere e non si vince così a caso si vince con un progetto se diciamo che gira sì perché a 16 milioni di clausole un giocatore costoso ma non possiamo mica pretendere poi di andare a vincere null'altro che forse chissà quale trofeo da bar per vincere bisogna comprare i giocatori questo non significa che poi se spende un miliardo di euro come ha fatto il pari san germain si traduca in champions league ma siamo sempre al vertice ci sono ormai come dire delle delle quotidianità a cui noi non apparteniamo più il milan in questo momento sta vivendo troppo di storia sta vivendo troppo di memoria di ricordi noi abbiamo bisogno di presente è un presente come questo che ci dice che acquistare tra l'altro mi scusi dottor furlani ma lei non è neppure all'altezza di marotta che riesce a portare parametri zero e navigare in un mare di m puntini puntini e far una squadra competitiva non ha agenda non è galliani che chiama gli dicono di sì o che chiamava e dicevano di sì non è moratti moratti come si chiama rotta che ci dice beh io con i parametri zero so come muovermi lei se mi consente è una persona nuova in questo contesto che per poter chiudere parametri zero a grosse difficoltà e per cui deve cacciare i soldi chiude pure la borsa vedremo dove vogliamo arrivare ma mamma mia ibra io una cosa voglio dire farò un'attenta analisi su ibra nei prossimi sei mesi dopodiché riprenderò una posizione qui abbiamo un sì una bellissima ibra imovic ciao ibra lei si chiama sangria ed è il direttore del canale per chi non lo conosce sta preparando la verigia per andare a new york farò un'analisi su ibra imovic fra sei mesi quindi fra sei mesi cercheremo di riparlare di lui perché lo voglio sperare che questa terza fase non sia una fase anonima ma questa prima uscita mi è piaciuta parecchio ciao